L'ennesimo annuncio propagandistico, privo di fondatezza, riguarda la costruzione dei tre ospedali di Lanciano, Vasto e Avezzano entro il 2026. Per il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle si tratterebbe infatti solo di un nuovo proclama dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e del governatore Marco Marsilio. Perché mancano fondi e documentazione adeguata per ricevere il via libera del Ministero, incalzano i consiglieri regionali pentastellati, sarà Marcozzi, Pietro Smargiassi, Giorgio Fedele e Francesco Taglieri che in conferenza stampa chiedono alla regione di fare chiarezza. Lo dicono i documenti non prodotti e cioè per definire e dare addirittura una data di consegna dei nuovi ospedali di cui parliamo serve una trafila burocratica, servono degli atti propedeutici e servono i fondi. Gli atti propedeutici sono la rete ospedaliera, il piano sanitario che non sono stati ancora portati al Ministero per la validazione, per cui non si comprende come faccio al Presidente Marsilio a darci addirittura la data in cui saranno completati gli ospedali se non hai ancora fatto la programmazione e non l'hai portata al Ministero e il Ministero non ti ha detto va bene. Prima cosa. Seconda cosa, ugualmente importante, sul Fondo Sanitario Nazionale per l'edilizia sanitaria per l'Abruzzo sono destinati per la costruzione di ospedali 400 milioni di euro, ma da quello che noi sappiamo e che abbiamo visto di cassa, di disponibilità di cassa oggi dovrebbero esserci tra i 130 e i 140 milioni di euro. Altra domanda per cui da rivolgere e ribaltare all'assessore Verì e al Presidente Marsilio, cioè quanti soldi ci sono realmente su questo fondo, ma anche qui i soldi potranno essere utilizzati da Regione Abruzzo soltanto dopo che la rete ospedaliera sarà validata dal Ministero, cosa che non è stata ancora fatta, per cui purtroppo noi oggi ci siamo sentiti di rilevare il fatto che siamo di fronte all'ennesimo annuncio di propaganda, l'ennesimo annuncio che ci dice faremo, diremo, costruiremo, ma che in realtà non ha le basi giuridiche e documentali. In tutto ciò però gli ospedali di Lanciano, Vasso e Davezano continuano ad avere delle criticità irrisolte. Assolutamente, lo hanno evidenziato i colleghi e un po' tutta la rete ospedaliera abruzzese, come dire, in questi anni di pandemia forse si poteva cogliere l'opportunità per rivedere quello che non andava e per cercare realmente di programmare le risorse e un lavoro, come dire, ben scadenziato nel tempo. Purtroppo non si fa, si fanno solo gli annunci, si continuano a sentire soltanto gli annunci di propaganda come se le cose si fossero già aggiustate e già fatte, in realtà non c'è un documento che provi le reali intenzioni di questa Giunta.